buongiorno a tutti e benvenuti al terzo episodio del rrrrr aia l'orecchia mutiamoli mutiamoli come si fa opzioni no mi faccio stai zitto guardato no x o perfetto 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 terzo episodio ma perché nessuno vota recovery siamo in 12 almeno uno voti una cazzo di mappa no e vabbè col cecchino mai poi mai più avete visto se sono io questo mai perché col cecchino grazie a me oggi vediamo un'altra mappa nuova col cecchino mai poi mai perché come avete visto se avete visto secondo episodio faccio schifio e ancora dire poco attaccato al microfono yes recovery attacco missilistico ti permette di controllare un missile sparato dall'altro perché sparato dal basso lo vedo un po dura lì c'è nebbia quindi si combatte nella nebbia non si veda niente perfetto per adesso devo dire che mi sta piacendo molto devo ancora prendere un po sulla mano a fare i salti del qua e del là ho sbloccato un'altra mappa che andiamo subito a trovare mega salti sta mappa me ne ricordo un'altra però di ghost che qualcuno sì 8 che cazzo d'arma è dove è andato no ma non era così madonna che schifo ho visto ho visto ho visto ho visto mi chinchiummo e se stiamo giocando a crisis vabbè stiamo giocando a crisis ragazzi road to commander su crisis 3 come avete visto è quello che è quello che mi chiedevo forse a tu madre spero che era automaticamente sarà sicuramente lo perché credevo era simile a una di post quindi bam sparta no invece no cambiamo immediatamente per l'amor di dio ho visto prima uccisione con la pistola basta l'uccisione tutti con la pistola tutti 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 oltre ma è andato dov'è scantante ne mancava un po che facevo le mega posso saltare di un no pochi cacchio se non dico tutta la vita la madonna non avevo ancora visto ma aveva tirato un dito non so cosa colmazzo mamma citato dove sono però stiamo vincendo 22 21 perchè mi sento che adesso faccio due passi e muoio non lo so però me lo sento e no però no 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 nuova disciplina olimpica stiamo giocando a come si chiamava quel gioco? a canter che dovevi sparare alle anatre che volavano no citro 29 25 non vi faccio vedere mai la classifica però non si vedono i miei mega i miei mega però l'ho ucciso quello là si mi sa di sì come fa a usare quello là? bene l'arma che stavo usando io prima che fa schifo madonna 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 prenditi questa e va l'uccido dai che è morto no ma come potete vedere sono sono bravissimo voglio dire che no è da tipo black ops 2 che gioco al multiplayer cazzo di dei color duty quindi non da un altro tiro al volo ah si può passare anche di qua perfetto madonna sono tutti qua adesso mi vengono mi uccidono sicuro cos'è? madonna mi salva da tutto ho visto uno di qua si ah da dietro mi ha ammazzato da dietro va bene bombina tattica non era la mia bomba dai non è possibile che mi sia stata la mia bomba magari ci sono altri segreti qua delle mafie mari reggisci da cosa che hanno ucciso uno e continuano ad ammazzarmi porca ma no fa meglio le basse che adesso mi ammazzano ma sicuro no? serio tutti dietro tutti e qua e qua e qua dove vai se la banana cos'è? aiuto oddio ah ma qualcuno ha tirato qualcosa di mega potente all'una no boh può darsi vinciamo la battaglia ma va ma quello là è morto però nè? porco il san bernardo ma venno a cerchieto posso passare di qua a mano alla vita l'ho visto uno là aiuto vaffanculo da dove? da dove? il salto della fide bomba dai 59 54 ho fatto assist turido uuuuh un'altra volta un'altra volta ciao no non è vero mai nella vita come cacchio ho fatto? sono gli stessi colpi che gli ho sparato io mi ho ammazzato un po' benissimo ciao dalla mafa distanza ciao ciao corpo a corpo adesso si può fare esatto che ci stiamo facendo chiudere? dai e vai grande vittoria con lag finale ragazzi il terzo 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 sì terzo terzo episodio è finito qua ah madonna è Mike Tyson Mike Tyson con il nostro amico Mike Tyson 915 se non faccio 15 morti non sono contento e ci vediamo al prossimo episodio ciao